Noi è l'acronimo di Nature of Innovation, la natura dell'innovazione. La mission di noi Techpark è di aumentare l'innovazione del territorio e questa mission volevamo sottolineare attraverso la costruzione dell'edificio. È diventato infatti uno smart building ricco di automazioni e di comfort, energeticamente efficiente e perfetto per lo smart working. Tra i piani del polo tecnologico trovano posto gli uffici per le aziende, gli spazi per le start-up, per i laboratori e per le officine, secondo una suddivisione che rispecchia l'intelaiatura originale dello stabilimento. Un grande laboratorio per lo sviluppo sostenibile. Il parco tecnologico di Bolzano è una riqualificazione profonda di un sito industriale, ispirato a valori di sostenibilità e innovazione. Il progetto ha messo alla prova tutte le competenze del gruppo Bettiol, edili ed impiantistiche. Lavorando in team con Schneider Electric abbiamo realizzato in un tempo limitato tutti gli impianti, quello elettrico, quello meccanico, la building automation, il sistema di monitoraggio energetico e quello di supervisione. Con i dati in tempo reale è possibile realizzare una manutenzione proattiva di tutti gli impianti, mantendoli sempre in efficienza. Uno smart building dotato di ecostructure è un edificio facilmente gestibile e dotato del livello di comfort necessario per lavorare in modo smart. È una soluzione coerente con la filosofia Lean del gruppo Bettiol, ovvero eliminare le inefficienze per realizzare il massimo valore aggiunto per il cliente. Ecostructure è un sistema di gestione molto flessibile. Il team Schneider Electric l'ha veramente adattato alle nostre esigenze e come fatto su misura. Grazie a tutti!